Quante volte ti sei trovato a piangere al buio, a piangere di notte, a piangere sotto le coperte, al buio. Il Tao dice la luce nasce dal buio, il suono nasce dal silenzio ed è proprio così. Quei momenti sono i momenti di trasformazione, è un momento di dolore sì, di un versare, un grande dolore, però nello stesso tempo è il momento di trasformazione perché la trasformazione avviene al buio, proprio come dice il Tao. Il seme si trasforma in albero dal buio, il seme nasce, i germogli nascono nel buio e quindi nel momento che pensi che c'è buio nella tua vita, che niente va come deve andare, che non ci sono le soddisfazioni, Coltiva, coltiva il tuo sogno, coltiva il tuo obiettivo, coltiva il tuo desiderio perché solo così dopo nasceranno. Vedrai dopo perché quando c'è il momento di germogliare non te ne rendi conto, ma dopo vedrai le prime foglie sopra la terra, vedrai poi dopo il tronco crescere, vedrai i rametti. Abbi fiducia, abbi fiducia nell'universo perché se il momento di trasformazione non lo vedi ancora, vuol dire che ancora devi coltivare la fiducia. La fiducia nell'universo, la fiducia nelle forze della natura, la fiducia nelle forze più grandi che sono dentro di te, la fiducia nel tuo potenziale. Ti saluto e ti auguro una buona giornata piena di fiducia, di gioia e di stare nel buio, non aver paura di stare nel buio perché dal buio nasce la luce. Dalla notte buia che inizia poi dopo a sorgere il sole finché diventa una bella alba. Sono Viorica Archiri, naturopata bioenergetico, ed aiuto le persone a raggiungere un benessere interiore e uno stato di salute migliore per vivere la vita con pienezza, vitalità e armonia. Buona giornata, di luce e di fiducia. Ciao!